Da un'adolescenza complicata segnata da quel soprannome, Michecca, coniato per lui dai bulli, ha un presente fatto di obiettivi raggiunti e sogni ancora da realizzare. Nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Michele Bravi parla di tutto, lavoro, progetti e anche di amore, adesso vissuto pienamente accanto a un uomo che lo rende felice. Sto con un ragazzo da due anni, è un po' più grande di me, racconta il cantautore e giudice di amici. Una storia bella, finalmente. Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche, fusionali. Credevo fosse colpa degli altri, ma il problema ero io. Ho capito che l'amore va coltivato con cura, come le camelie, che se il mio uomo mi dicesse addio dovrei essere pronto a lassiarlo andare. Adesso cresse anche il sogno di un figlio, ma per ora resta un'idea ancora sfumata. Perce, spiega, nel mio caso è complicato, significerebbe ricorrere all'adosione, alla maternità surrogata. Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente. Oggi è una domanda che mi faccio. E mi piace. Domani, 12 aprile, uscirà il suo ultimo disco Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi dove duetta anche con Carla Bruni. Dalla vittoria a X Factor di dieci anni fa, di strada ne ha fatta Michele Bravi, considerando che il suo primo disco non andò bene e gli dissero che la sua carriera era finita. La discografia è un mondo brutale. Ero giovane, criticarono aspramente la mia musica e io lo vissi come stessero annientando me. Ora ho le spalle più larghe, ma se sei un giovane artista, commenti, così ti devastano. Da giudice ad amici faccio sempre molta attenzione a come mi esprimo. Tre anni fa, dopo l'ultimo disco, Una crisi, ho avuto un blocco, Real Video, vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.